registrare i tre minuti grezzi col gattino sputnik in grembo che fa rumorini e cerca di mordere di volta in volta l'asta del microfono il cavo delle cuffie oppure il cavo dello schermo che cerca di evitare che io faccia troppi implosive al microfono questa è la settima puntata il settimo episodio prima della conclusione del gran finale dei tre minuti grezzi che come ormai è stato deciso grazie al suggerimento iniziale di alessio dell'amico alessio che avete avuto modo di incontrare diverse volte in questi tre minuti grezzi credo in effetti che alessio sia la persona che è comparsa di più proprio con la sua voce dal vivo in questi tre minuti grezzi e colui tempo fa ma qualche settimana fa qualche mese fa ma ma scusa perché devi continuare a fare all'infinito sui tre minuti grezzi perché non lasciare che rimangano una cosa così one off di un anno di un periodo circoscritto in effetti ha ragione e quindi mancano sette puntate sette episodi alla conclusione questo ultimo quello che sarà l'ultimo episodio penso il 4 di gennaio perché il 4 di gennaio dello scorso anno di quest'anno del 2021 ho iniziato questa avventura sì non voglio fare resoconti non voglio fare riassunti anche perché non è nella natura di questo programma di questo di questo esperimento che per me è riuscitissimo mi sono divertita tantissimo e ho notato anche che ho acquisito un discreto numero di ascoltatori discreto per quello che riguarda le mie aspettative che non sono certamente di avere centinaia di migliaia di ascolti ma neanche centinaia diciamocelo ci sono sei sette persone che so di sicuro che mi ascoltano religiosamente smetti sputnik un attimino e lo so perché quando ci incontriamo di persona sono amici amiche fanno riferimento a cose di cui ho parlato nei miei tre minuti gresi rimango sempre un po così e penso ma come fanno a saperlo e poi certo che lo sanno perché ne ho parlato ho spiatellato tutto nel mio diario pubblico ecco questo sarà anche una un record per me record nel senso di di cose scritte e conservate che per un anno ho avuto più o meno un diario pubblico dove ho riportato veramente tutti i giorni tutti i giorni cose che mi succedevano e pensieri così che mi vagavano per la testa abbiamo ancora cinque secondi sputnik vi saluta continua a ronfare a piantarmi le unghiette sulla gamba ai grazie 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 grazie